Mi chiamo Giuseppe Ferrieri, sono il presidente dell'Associazione Diabetici del Basso Molise, faccio parte del direttivo ANIAD e sono uno dei tre referenti nel Molise di Diabete Italia. Sono felicissimo di essere qui, ho preso veramente con gratitudine il vostro invito, non vedevo l'ora di arrivare, essere qui significa sapere, conoscere, informarsi, quindi sono felicissimo. Oggigiorno essere insieme nella gestione del diabete significa condividere tante informazioni, è fondamentale, non bisogna chiudersi, quindi la gestione del diabete viene sempre meglio se sia insieme. L'educazione terapeutica è importantissima, oggigiorno ancora di più perché c'è tecnologia. Conoscere la conoscenza della propria patologia è fondamentale per una corretta gestione. Il ruolo delle tecnologie è importantissimo, oggi più che mai, perché io vengo dalle siringhe di vetro e sono stati passi da gigante, quindi ho sposato da subito la tecnologia con i microinfusori e non tornerai mai indietro. La nostra associazione nel territorio, ma anche a livello nazionale, si occupa di formazione, informazione, quindi cerchiamo di fare sport, di far fare sport, di praticare sport ai ragazzi, cerchiamo di insegnare loro il counting dei carboidrati e una corretta gestione di vita. La nostra associazione nel territorio, ma anche a livello nazionale,